Fabio Pepe, capitano dell'Ortalonga, avete appena vinto il torneo ai calci di rigore, qual è stato il momento più delicato di questa partita? Quando all'ultimo loro hanno avuto molta opportunità per vincere la partita, abbiamo sofferto. Che torneo è stato prima di arrivare in finale? No, abbiamo vinto tutte le partite prima di questa, solo oggi non abbiamo giocato bene, però abbiamo avuto fortuna. Questa vittoria può essere anche una vittoria del Torione? Sì, sì. Qual è l'augurio che puoi fare a te e alla tua squadra per le prossime edizioni di questa saga? Di non vincere i rigori, ma nella partita. Bello po'! Ehi!